In questo video vi mostriamo un appartamento a Marassi vicino a Piazza Galileo Ferraris e precisamente all'inizio di Via Ferreggiano. Si tratta di un appartamento di 60 metri quadrati posto al quarto e l'ultimo piano di piccolo stabile senza ascensore, internamente composto da un ingresso in soggiorno, quindi un ingresso alla genovese, due camere da letto, cucina abitabile e bagno finestrato. È completamente da ristrutturare, l'esposizione è buona, molto luminosa e l'immobile si presta a vari utilizzi, tra cui anche uso e investimento per poter poi essere riaffittato, questo anche grazie al fatto che è in una posizione comoda e dove ci sono molti negozi e servizi e i mezzi pubblici che collegano bene la zona anche al centro città. Inoltre le spese di amministrazione sono contenute perché il riscaldamento autonomo di amministrazione sono contenuta. Tutte le altre informazioni sul nostro video mettiamo in casa con il nostro video a sito www.ligorsabili.it Grazie a tutti.